In questo video vorrei farti vedere un processo di classificazione che parte da algoritmi automatici per poi arrivare a un editing manuale di una nuvola di punti dentro lo software LIDAR 360 e per farti vedere come partendo dagli algoritmi automatici che riguardano soprattutto la classificazione del terreno passando attraverso il profile editor quindi utilizzando la vista in sezione, la vista in profilo e gli strumenti che LIDAR 360 ti mette a disposizione puoi raffinare molto l'editing della classificazione di una nuvola di punti al fine di riuscire ad avere in output un dato che sia il più consistente possibile in termini di informazione specifica di quello che i punti rappresentano al suolo o all'interno della scena che è stata modellata questo vale per acquisizioni fotogrammetriche, vale per acquisizioni laser scanning in questo video ti faccio vedere una nuvola di punti aerofotogrammetrica è una nuvola di punti molto piccola, è di un'area molto molto più vasta per cui il dettaglio non è un granché ma ci sono alcuni elementi che mi permettono poi di lavorare bene nella parte di classificazione manuale e volevo anche evitare di avere un dato troppo pesante per rendere il video troppo lungo questa è la nuvola di punti, questo è l'IDAR 360 e vedi che è una nuvola di punti da aerofotogrammetria peraltro presa con presa nadirale, quindi immagini scatate solo nadirali quindi chiaramente le parti verticali non sono definite però ci sono gli elementi che possono caratterizzare quello che c'è in questa parte di nuvola quello che c'è al suolo, c'è un edificio, c'è delle macchine, c'è una strada, c'è del terreno, c'è della vegetazione lo scopo è quello di arrivare a una nuvola di punti che sia la più dettagliata possibile in termini di descrizione come classi di quello che i punti rappresentano il primo passo è sempre quello di classificare il terreno il classify ground lo trovi dentro il menu classify, ext classify ground point e qui il software ti chiede una serie di informazioni per quanto riguarda quello che c'è al suolo e quello che vuole classificare la prima cosa da fare è provare ad avere un'idea di quella che è la max building sites in questo caso 160 è davvero troppo è rimasto il dato che avevo inserito per un progetto precedente max building sites la posso tirare fuori da qua utilizzando gli strumenti di misura che mi ritrovo da queste parti qui e quindi questo video è fatto su uno schermo che è stato un po' ristretto per cui non è measurement, length measurement prendo la lunghezza massima quindi tiro quello che è il valore massimo planimetrico della lunghezza dell'edificio quindi 21 metri potrei dare 22 metri per essere cautelativo diciamo 22 metri è il dato che mi porto dentro all'interno del processo di classificazione del terreno quindi classify ground point max building sites 22 max terrain angle questo è un dato che a lui serve per sapere che cosa è edificio che cosa è muro che cosa è elemento verticale che non è terreno default value è 88 in questo caso potrei veramente abbassarlo il valore di terrain angle perché questo è un terreno quasi completamente pianeggiante potrei lasciare un valore cautelativo di 45 gradi ed è molto cautelativo iteration angle, iteration distance sono valori su cui non voglio soffermarmi perché questo video non tratta la classificazione automatica del ground anche se è un po' il cuore della classificazione o meglio è il punto di partenza della classificazione ma ho trattato un video a parte sulla classificazione del ground puoi lasciare questi valori poi ci sono delle informazioni che ti appaiono se lasci il cursore fermo sul box del setting corrispondente qua lascio i valori di default tolgo l'informazione, tolgo la stop triangulation lascio che il software crei il maggior numero di punti del ground possibile do ok, io spero che non ci metta molto dovrebbe iniziare la classificazione ecco fatto, è abbastanza veloce perché la nuvola è molto piccola che cosa succede? che alla fine del processo lui ha creato, mi ha dato le classi non è che mi ha dato le classi ha provato a tirare fuori dalla nuvola di punti tutto quello che secondo lui è terreno e me l'ha colorato in arancione questa è la vista secondo la classificazione le viste le puoi cambiare qui quindi in questo caso siamo nella vista display by classification se voglio ritornare alla nuvola di punti che non ha perso l'informazione di colore basta che torno qua e il software mi fa vedere la nuvola di punti colorata quando chiedo di avere la display by class il software mi fa vedere questa finestra dove mi dice che classi della nuvola di punti vuoi che ti faccia vedere? a mano a mano che vai avanti con la classificazione avrai delle nuove classi e in questo caso ne hai soltanto due i punti del terreno classificati dall'algoritmo precedente e i punti che non sono stati riconosciuti dal terreno come terreno dall'algoritmo automatico e quindi sono tutti non classificati se io tolgo la spunta su unclassify quello che riesco a vedere sono esclusivamente i punti del terreno direi che il software ha fatto un ottimo lavoro nella classificazione del terreno nell'estrazione dei punti del terreno c'è qualcosa che secondo me va un pochino risistemato che non è molto caratteristico del terreno ad esempio se mi sposto qua lo vedo l'ho chiappato prima eccolo qua questa sorta di cuspide qui non la vedo molto caratteristica del terreno probabilmente lui ha classificato come terreno quella che potrebbe essere una vegetazione media per il resto ha fatto un ottimo lavoro ma in questa nuvola di punti non c'è soltanto il terreno ci sono altri elementi e tipicamente quello che vorrei estrarre sono l'edificio, la vegetazione e le auto poi vediamo se a seconda di quanto va avanti questo video se c'è margine anche per classificare il terreno e distinguere tra terreno normale e strada però forse questo è anche meno importante richiedo al software di farmi vedere la nuvola RGB ora vorrei provare a utilizzare un altro algoritmo automatico che ha Leader360 al suo interno che è Classify Building funziona dopo che hai classificato il terreno quindi Classify, Classify Building lui mi apre un altro box dove ci sono una serie di parametri da utilizzare vorrei andare ai parametri di default anche qua magari potrebbe essere interessante fare un video specifico su sulla classificazione degli edifici perché anche qua ci sono un sacco di cose da dire qui mi sembra che sia tutto a posto ok lui cosa farà? passerà la nuvola di punti in rassegna i punti della nuvola in rassegna utilizzando questi parametri come filtro e proverà a estrarre quello che secondo lui sono degli edifici vediamo che cosa mi dà in output allora direi che ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda l'edificio principale poi però lui cosa ha fatto? si vede che le caratteristiche di questa nuvola l'hanno portato a dire che questi elementi qua che se vado nella nuvola RGB è evidente che non sono edifici ma è alta vegetazione questi elementi lui li ha classificati come edifici vedi che si è aggiunta un'altra classe a mano a mano che vai avanti con la classificazione che aggiungi le classi c'è una nuova classe la classe ID6 building colorata in rosso questi sono valori di default li puoi cambiare secure display by class lui mi fa vedere il terreno e gli edifici se gli chiedo di farmi vedere tutto quello che non è ancora stato classificato quindi tolgo la spunta da ground e da building la lascio su unclassified vedi che lui mi fa vedere tutti questi punti a cui non è riuscito a dare una classificazione vedi che ci sono parti dell'edificio che comunque non sono state prese e come edificio in realtà tutte queste parti verticali dovrebbero essere state ricomprese nell'edificio non lo sono state e ci sono delle parti di vegetazione che non sono state ancora classificate ci sono le auto che non sono state ancora classificate ritorniamo un attimo sulla nuvola sul display by class prova a vedere tutte e tre le classi insieme ecco ora ho abbastanza completo il quadro di quella che è la classificazione fino adesso quello che il software è riuscito a fare fino a questo momento cioè la classificazione del terreno e la classificazione degli edifici c'è una parte che manca potrei andare avanti ancora utilizzando degli altri algoritmi di classificazione automatica semi-automatica classify by height above ground ad esempio quindi una volta che il software ha classificato i punti del terreno ho la possibilità di dire al software guarda tutto quello che stacca dal terreno fino a un metro, due metri tre metri, cinque metri classificano all'interno di una classe ci sono una serie di algoritmi di classificazione automatica semi-automatica dentro l'IDA 360 che sono molto interessanti ma in questa fase vorrei farti vedere come procedere con una classificazione manuale andando a limare tutta quella che è la parte legata a quello che è rimasto fuori dagli algoritmi automatici per portarti poi alla classificazione completa di questa porzione della nuvola di punti allora il principio che c'è dietro è quello di lavorare sulla base di sezioni quindi sezionare la nuvola di punti e muoverti lungo la nuvola di punti sezione per sezione per dire al software guarda che questi punti che tu mi hai classificato come edificio non sono edificio ma sono alta vegetazione oppure questi punti che non mi hai ancora classificato mettili all'interno della classe edificio oppure crea una nuova classe che potrebbe essere la classe automobili perché lavora sulle sezioni? perché è più facile vedere i punti di una nuvola se ti togli dalle scatole tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo nuvola di punti in quanto elementi tridimensionali sono degli oggetti complessi e la vista dettagliata di oggetti complessi se non gli togli delle parti è una vista molto molto incasinata e quindi rischi di prendere dei punti che sono su piani diversi che appartengono a delle cose diverse oppure rischi di non vedere degli elementi che avresti dovuto prendere lavorando per sezioni e raffinando o quindi stringendo quello che è il buffer quanto è larga la sezione quanta parte di nuvola di punti viene fatta vedere in quella sezione riesce ad essere molto molto più accurato in tutto il processo di editing allora il section l'analisi su base di sezione la trovi qua quindi utilizzi lo strumento profile ok? cliccando sullo strumento profile lui cosa ti fa? ti splitta la finestra in due parti e nella parte superiore ti fa vedere la vista dall'alto la vista planimetrica la vista 2D nella parte inferiore ops mi è partito il buffer nella parte inferiore ti farà vedere quella che è la sezione è attivo lo strumento di tracciamento della sezione per cui tu puoi iniziare da una parte quindi si tratta di scegliere fondamentalmente un andamento la direzione di propagazione di quelle che saranno le sezioni e individuare la prima sezione della serie per poi muoverti ortogonalmente passando in rassegna tutta la nuvola di punti hai attivo lo strumento di sezione quindi fai un click in un punto e ad esempio che io voglio utilizzare questa direzione vedi che a seconda di dove mi sposto diciamo che il segmento il secondo vertice del segmento mi individua la traccia della sezione e lui automaticamente mi fa vedere anche la semiretta ortogonale a questo segmento che mi identifica l'avanzamento di quella che sarà poi la direzione di editing di questa nuvola di punti perché tutte le sezioni che io riuscirò a fare sono sezioni che saranno ortogonali a questa nuvola a questa sezione e lungo questo profilo faccio doppio click devo individuare qual è il buffer gli dico buffer ad esempio 2 vediamo che cosa succede con un buffer di 2 ecco mi fa vedere quanto quanta parte della nuvola di punti viene presa a cavallo di questa sezione con un buffer di 2 metri gli do ok e qui sotto vedo il il profilo cioè tutto quello che è compreso all'interno di questa nuvola di punti di buffer 2 volendo potrei cambiare potrei abbassarlo questo buffer e lui ha stretto vedi che lui ha stretto un po' questa questa fettina se lo riporto se lo esagero lo porto a 5 vedi che questa fettina diventa una fettona comunque lui qua sotto mi fa vedere tutto quello che è compreso all'interno di questa di questa superficie perché la vediamo dall'alto ma in realtà questo è un volume di taglio torniamo a un buffer allora vorrei trovare un buffer che sia rappresentativo ma che non ci faccia stare troppo tempo su questa nuvola lasciamo 5 probabilmente non è la scelta migliore se dovessi lavorare in maniera accurata utilizzerei un buffer di 2 metri mi sembra abbastanza rappresentativo e sottile per tirare fuori tutte le caratteristiche che sono necessarie però stiamo su 5 perché mi sembra un po' più che abbracci un po' più un po' più roba ecco diciamo così hai la possibilità a questo punto una volta che hai individuato le sezioni una volta che hai individuato il buffer utilizzando queste frecce up move down move è la possibilità di allora proviamo a stringere un attimo questa finestra un po' dall'alto perché poi alla fine lavoreremo molto sulla parte in basso la parte delle sezioni questa possiamo sempre zoomarle in maniera in maniera indipendente up move down move quello che succede è che riesci a spostarti con le sezioni della nuvola lungo l'asse quindi lungo questo profilo ortogonale alla prima sezione in modo tale da passare in rassegna tutta la nuvola di punti senza dover poi fare fondamentalmente più niente in termini di individuazione dell'andamento dell'asse di propagazione delle sezioni a meno che tu non voglia cambiarle questo è molto comodo ti permette di fare veramente un passaggio in una sezione o nell'altra tramite un semplice click quello che puoi fare eventualmente è anche fare delle rotazioni se per caso vuoi cambiare l'asse di rotazione l'asse di direzione di propagazione delle sezioni magari lo vediamo dopo quando proviamo a trattare questa parte ora quello che hai qui nella parte bassa è la vista in profilo di quello che è il contenuto di questo volume di taglio e vedi che ci sono dei punti legati al terreno e ci sono i punti legati agli edifici in questo modo hai la classificazione hai attiva la display by class dove ti fa vedere tutto quanto quindi il mio consiglio è incomincia a giocare su questi parametri quindi scegliere che cosa vedere che cosa non vedere in questo caso io ho disabilitato la vista dei punti non classificati ma in realtà la richiedo fuori perché poi ci sono dei punti che so che non sono stati classificati ma che appartengono a degli edifici quindi questi punti li voglio vedere perché voglio attribuire una classe in questo senso ed ecco che mi ritornano oppure se sei sicuro che il terreno sia stato preso bene puoi disabilitare la vista del terreno quindi togliere il ground lasciare soltanto ad esempio building e unclassified potrebbe essere un'opzione dipende dal tipo di nuvola che hai e dal lavoro che devi fare nulla ti vieta di fare questo lavoro più volte quindi di passare più volte sulla solita nuvola di punti in modo tale da fare una classificazione mirata per classe secondo delle passate diverse ognuno poi ha il suo modo per lavorare per editare le nuvole di punti ora direi che questa sezione tutto sommato va bene passo alla sezione successiva quindi vado avanti e qui dentro vedi che ci sono dei punti che il software mi ha classificato come edificio e va bene ci sono dei punti che non sono stati classificati come edificio e vorrei classificarli come edificio sono questi bianchi e poi ci sono delle macchine che sono parcheggiate qua e vorrei dargli una classificazione specifica sulle auto allora a questo punto quello che devi fare è lavorare con i parametri che ti ritrovi in questo box che è class setting allora il principio che sta dietro a questo processo è individuo dei punti e automaticamente il software una volta che ho individuato questi punti gli attribuirà una classe che io gli dico in maniera preventiva in modo tale che questi punti vadano direttamente sulla nuova classe è più facile farti vedere di cosa si tratta che non spiegartelo allora la prima cosa che devo fare chiudo il buffer qui la prima cosa che devo fare è dire quali sono i punti di cui voglio cambiare classe in questo caso la cosa che voglio fare è spostare i punti non classificati che appartengono all'edificio a punti di edificio per cui io qui segno metto la spunta su unclassified quindi sono tutti i punti che non sono stati classificati quindi in questo caso qualunque punto del ground o dei building che io vada a selezionare non verrà mutata la classe di questi punti sarà interessato soltanto i punti che sono dentro unclassified dove li voglio portare li voglio portare e lo dico qua to class quindi scelgo tra le varie classi che ho a disposizione in questo caso voglio portare i punti non classificati nella classe edifici quindi building ora si tratta ho definito il punto di partenza quindi selezione il punto d'arrivo d'arrivo devo definire che cosa quali sono effettivamente i punti che voglio spostare devo fare la selezione la selezione la puoi fare secondo vari strumenti ci sono degli strumenti di selezione poligonale quindi potrei selezionare utilizzando lo strumento di selezione poligonale i punti che fanno parte di questo edificio la faccio fino a un certo punto perché vorrei farti vedere anche altri strumenti di selezione per esempio prendo dentro tutto quanto doppio clic lui automaticamente da bianco diventa rosso cosa vuol dire che da unclassified sono diventati punti degli edifici oppure puoi scegliere lo strumento di selezione rettangolare quindi click sul primo punto doppio clic e lui tutto quello che è all'interno te lo fa diventare rosso in questo caso te lo porta verso la classe di definizione puoi scegliere più classi sorgenti quindi più classi di partenza quindi potrai scegliere sia building sia ground che unclassified per andare verso building ma puoi scegliere soltanto una classe di destinazione quindi soltanto una di queste classi per la classificazione manuale oppure puoi scegliere gli strumenti che ti permettono di fare una selezione line above o line below quindi tu tracci una polilinea e tutto quello che sta sopra quella polilinea viene tutti i punti che stanno sopra quella polilinea nella vista 2D vengono trasformati secondo il comando che hai appena definito quindi potrei fare una linea qui in basso per prendere tutti questi punti quando è finito tasto destro ed ecco che tutto quello che era classificato come edificio che non era classificato adesso è classificato come edificio qui dentro ci sono due auto fanno parte in questo caso so che sono auto perché le ho viste nella nuvola RGB erano parcheggiate qua puoi sempre spostarti nella nuvola RGB quindi ricorda che l'informazione del colore c'è sempre quindi se ti serve l'informazione del colore per sapere che cosa stai guardando è assolutamente importantissimo poter switchare da una parte all'altra ritorno alla classificazione queste auto le voglio spostare in una classe a parte classe a parte che in questo caso io non ho non ho definito però avrei potuto magari poi se avanza un po' di tempo lo vediamo alla fine ci sono vedi queste classi hotkey da 0 a 9 e poi ci sono una serie di classi reserved quindi riservate da 13 a 31 poi in realtà ci sono molte altre classi in più che puoi aggiungere quindi potrei ad esempio metterla sulla reserve 13 ma avrei potuto creare una hotkey numerata hotkey 13 ad esempio automobili car autoveicoli e quindi in questo caso avrei una classe riservata nominata per gli autoveicoli per tutte le altre classificazioni che dovrei fare all'interno di leader 360 in questo caso lo metto dentro al reserve 13 cosa devo fare devo selezionare queste auto e dargli far sì che da unclassified vadano a reserve 13 faccio una selezione in questo caso potrei fare una selezione line above come prima quindi faccio una selezione un po' grossolana di questo tipo mi fermo qua e lui gli attribuisce questo colore colore verde a questo punto questa sezione è fatta vado alla prossima sezione e quello che devo fare è fondamentalmente quello che ho fatto esattamente adesso quindi classificare questi punti ora sono sono rimasto dentro non ho cambiato le impostazioni precedenti quindi vado unclassified a reserve 13 quindi già che sono qua classifico questi punti come punti di auto vedi che lui comunque mi dà un po' di overlap rispetto alla sezione precedente questo è importante altrimenti non c'è ops col tasto destro ho annullato comando altrimenti rischi veramente di di avere dei buchi di continuità nella classificazione che possono essere possono dare qualche problema forse qua c'è la possibilità di dare qualcosa in auto ora passo prendo questi punti li faccio diventare building quindi da unclassified a building quindi da unclassified a building e utilizzo una selezione poligonale ok questi punti qua sono punti che sono in questa zona vediamo un po' in nuvole RGB questa è bassa vegetazione questi non sono alberi ma incominciano ad essere vedi qua incominciano ad essere un po' di cespugli incomincia ad essere qualcosa che si stacca dal terreno che non è terreno non è auto non è vegetazione alta non sono alberi allora posso attribuire a questi punti la classe bassa o medium vegetation ci sono alcune classi di vegetazione dentro lì da 360 e col solito principio li seleziono e gli attribuisco quelle classi ritorno alla vista classe ok gli dico di andare da from class unclassified to class low vegetation seleziono questi punti con lo strumento line above di nuovo vado un po' veloce e questi punti vengono fatti vengono portati dentro la classe low vegetation qui ho finito vado avanti e niente se è soltanto da continuare per questo che ho utilizzato un buffer di 5 metri perché altrimenti ci avrei messo un po' troppo per gli standard di questo video low vegetation ora qui incominciano a complicarsi un po' le cose perché qui dietro c'è un po' di salita qui dietro c'è un po' di di terreno che sale quindi non siamo più sul solito livello potrebbe valere la pena invertire eventualmente l'andamento della sezione quindi utilizzare una direzione di questo tipo per trattare questi punti quindi quello che si potrebbe fare è continuare a lavorare sul building e sulle auto in questa zona e poi eventualmente switchare cambiare la direzione di propagazione delle sezioni per trattare questa parte quindi facciamo così passiamo da unclassified a building con una selezione poligonale quindi seleziono questi punti devo stare attento a non selezionare questi punti qui perché questa è vegetazione quindi questi diventano building questi sono auto forse building c'è anche questa parte qua in basso questi diventano auto quindi da unclassified a reserve 13 in realtà avrei dovuto utilizzare reserve 10 perché reserve 13 non me la mette tra le hotkey vabbè ma non c'è problema possiamo tranquillamente poi fare un modo un po' più veloce dopo la stiamo su reserve 13 ok non classifico questa parte perché se classificassi questa parte rischierei di prendere punti di cui non sono molto sicuro perché vedi che qua dietro c'è il terreno perché il terreno qua dietro sale si alza un pochino ma davanti ho un livello un po' più basso per cui ha più senso in questo caso spostarmi e cambiare la direzione di propagazione delle sezioni andiamo avanti in questo caso quindi finiamo questa direzione ma sono abbastanza convinto che in questa direzione non debba più metterci niente in realtà qui si c'è l'edificio ok vado avanti fino in fondo a questo punto quello che voglio fare è definire una nuova direzione di andamento delle sezioni per poter individuare per poter classificare meglio questa parte e la direzione migliore mi sembra che sia questa quella che va ortogonale che va lungo questa direzione che poi se vado nella nuvola RGB è questa linea qui di demarcazione tra questo livello inferiore e questa zona qua dove c'è una zona ex ferroviaria per cui cosa faccio utilizziamo gli strumenti di rotazione delle di rotate setting quindi di rotazione delle sezioni quindi se io faccio rotazione vedo che vedi che la sezione comincia a ruotare a ruotare un po' quindi quando la porto ortogonale la porto raggiunge quella che è la direzione che mi interessa la posso anche spostare al punto di partenza e dovrei aumentare un po' questa sezione perché vedi che alla fine in questo punto va bene ma poi a mano a mano che mi sposto in questa zona questa sezione terrà fuori un parte della nuvola di punti perché questa zona qua verrà lasciata fuori magari mi interessa avere la copertura completa perché un altro punto di vista mi permette di capire se qualche punto è scappato all'interno della vista della sezione allora quello che posso fare è utilizzare lo strumento di espansione quindi qua posso cliccare su lo strumento che mi permette di espandere la sezione la puoi espandere quanto vuoi fino a che non ti copra chiaramente tutta la parte che ti interessa a questo punto utilizzando la vista delle classi posso procedere a fare posso andare avanti a selezionare quella che è la parte di posso iniziare a fare la classificazione di questa di questa zona vediamo un po' se ci aiutiamo con la nuvola di punti colorata per capire che cosa c'è qua qui c'è un'auto ok e c'è anche della bassa vegetazione che è qui dietro non è non è semplicissimo così quindi la cosa che si potrebbe fare qui è ruotare ancora un po' la nuvola di punti per la sezione per vedere ho sbagliato per vedere se riesco a vedere meglio la vegetazione la vegetazione la vedo molto meglio ho tolto di mezzo fondamentalmente l'auto vedi puoi sempre ruotare le sezioni e quindi metterti nella situazione migliore per il tuo punto di vista ritorno su classify e quello che gli chiedo al software è passare i punti non classificati ma anche i punti del terreno perché questi punti del terreno non mi sembrano che sono punti del terreno effettivi ma mi sembrano più punti appartengano alla alla vegetazione quindi gli dico da unclassified e da ground verso in questo caso gli dirò medium vegetation low vegetation scusa e questi punti li seleziono con uno strumento di selezione poligonale quindi seleziono tutti questi punti qui e gli dico al software di prendere tutti questi punti di farmi diventare low vegetation ecco fatto che questa è diventata low vegetation vado avanti con la sezione vediamo se così va bene qui ho l'auto ok forse un modo migliore per trattare in questo caso l'auto è quella di sganciarci dalla vista in sezione e lavorare sulla vista su un'altra vista vista planimetrica vista tridimensionale quindi muovermi nello spazio 3d se tu vai qua e clicchi su questo pulsante hai la possibilità di ruotare la sezione ok quindi di vedere gli elementi tridimensionali non più in sezione ma ruotati in questo modo l'auto la riesca a vedere molto meglio rispetto a quanto non faccia con la sezione ok quindi hai la possibilità di prendere di fare esattamente la solita cosa con gli strumenti di selezione quindi da unclassified a abbiamo detto reserved 13 con una selezione poligonale prendere questi punti anche se sbordo un po' sui punti del terreno non è un grosso problema perché alla fine lui prenderà soltanto i punti mai classificati e farli diventare auto in questo modo hai una una vista molto più vantaggiosa questi punti del terreno non sono tanto punti del terreno ma di nuovo sono punti di bassa vegetazione quindi potrei dire da punti mai classificati punti del terreno vai a punti di low vegetation e quindi utilizzo sempre il solito strumento di selezione poligonale direi che potrebbe essere così puoi sempre riportarti alla vista in sezione e torniamo sulla vista RGB per vedere che cos'è questo se è auto oppure no allora in questo caso questo elemento qui non è più un'auto ma è bassa vegetazione in realtà questo era un deposito addirittura era della vegetazione che è stata degli sfalci che sono stati lasciati lì a terra e in realtà quindi non rappresentano vegetazione effettiva a terra per cui ha molto senso che questo vengano mantenuti non classificati ritorniamo alla vista rimango sempre alla vista sezione ma avanzo di uno step ora ho fatto del casino ovviamente e qui hai la possibilità di attivare la griglia front view eccolo qua non trovavo il modo per ritornare alla vista sezione ecco che a questo punto in questa sezione ho degli elementi che appartengono evidentemente ad alta vegetazione perché sono questi alberi vado in RGB ci sono questi alberi che se vado a vedere nella classe il software mi ha classificato come edifici io voglio togliere questa classificazione e voglio che questi punti diventino punti di alta vegetazione allora vado da building tolgo anche unclassify il lascio perché qua dentro ci sono punti non classificati front view tolgo le informazioni tolgo l'opzione di prendere punti del terreno da building a high vegetation faccio una selezione che potrebbe essere tranquillamente una line above ok questi punti vengono fatti appartenere adesso alla classe di high vegetation andiamo avanti solita cosa lascio le impostazioni di prima perché questi punti ci sono punti vedi che ho classificato precedentemente ti fa vedere la sovrapposizione delle aree di buffer io in questo modo li classifico come punti di alta vegetazione lascio un attimo stare le auto perché magari ci ripasso dopo togliendo tutto quello che non mi interessa da un punto di vista delle altre classi questi sono ancora punti di alta vegetazione quindi li prendo con molta confidenza e li faccio diventare da mai classificati a punti di alta vegetazione anche qua vedi che c'è dentro qualcosa di alta vegetazione qui in fondo direi che abbiamo finito abbiamo esaurito anche questa passata allora ci sono ancora alcune cose da sistemare in questa nuvola di punti ci sono intanto vedo che qua c'è qualcosa che non mi torna nel senso che qui c'è ci sono c'è qualcosa marcato come edificio che in realtà è completamente distante dall'essere l'edificio per cui torniamoci un po' sopra vediamo che cos'è che viene marcato edificio qualcosa qua sotto quindi qualcosa che in realtà appartiene alle auto è stato marcato come edificio e direi che per il resto ci siamo a meno di dover classificare le automobili che sono parcheggiate in questa zona come potrei fare? beh per dare continuità a quello che ho fatto potrei ruotare ancora la sezione in questa direzione e vedere che cosa vedo quando mi porto un po' più avanti e vado a prendere tutto quello che è in questa fascia non è stata una grande una grande scelta perché? perché qua c'è un salto di terreno c'è terreno a un livello superiore e terreno a un livello inferiore per cui dove ci sono dei salti di quota è sempre molto difficile capire che cosa sta sopra che cosa sta sotto per cui la vista migliore in questo caso è quella ortogonale alla direzione di questa sorta di marciapiede e quello che mi viene da dire è ridurre un po' il buffer quindi schiacciare un po' quella che è la parte di nuvola di punti che è compresa all'interno di questo settore di ritaglio per per essere un pochino più isolato e quindi non avere troppi elementi di disturbo allora il buffer buffer settings lo trovi lo trovi qui proviamo a andare a 2 ed ecco che lui la stringe molto questa sezione ed è molto più intuibile che cosa vediamo qui a terra per cui ripartiamo dall'indietro dal punto di partenza e avanziamo qui ho della bassa vegetazione delle auto quindi qua potrei avere ancora un po' di bassa vegetazione credo quindi passiamo da ground unclassified lasciamo anche building tanto dopo li prendiamo i building e qui non abbiamo il rischio di prendere dentro degli edifici low vegetation e faccio un line up ok andiamo avanti qui prendiamo la bassa vegetazione che è qua e quello che è qui dentro è diciamo che questa è quella parte di vegetazione che non voglio che non voglio che compaia perché è quel riporto di vegetazione allora in realtà questi punti che ho classificato come bassa vegetazione sono punti che dovrei togliere dovrei togliermi di mezzo perché in realtà questi sono punti che appartengono a questo cumulo allora come faccio ok devo salvare ok se non salvo a questo punto questa è una parte importante se non salvo lui non mi fa vedere in questa zona le classi opzionabili che posso poi riconvertire per intenderci io ho determinato una serie di classi la low vegetation high vegetation e però lui non le ha ancora salvate per cui non mi permette poi di spostarmi da queste classi non mi permette di cambiare questi punti di queste classi in altri punti allora come faccio vado vado qui save result lui fa un salvataggio e quello che è auspicabile spero che succeda che alla fine di questo salvataggio quindi salva tutto quello che ho fatto quindi salva i nuovi punti e immagino che salvi anche le classi che sono state create all'interno di questo processo e quello che è auspicabile è che esatto alla fine di di questo di questo processo lui ha fatto comparire qui delle nuove classi e qui dentro me le ha reese opzionabili tant'è che adesso io se passo però posso scegliere low vegetation tolgo la spunta su unclassified su ground e su building questi punti li faccio li sposto da low vegetation a unclassified con il line above ok andiamo avanti questi punti ad esempio qua vedo che i punti del terreno non è che siano molto rappresentativi perché qua il terreno va a prendere quella cuspide che ti ho fatto vedere prima qua il terreno va a prendere il cumulo di vegetazione per cui allora cosa gli dico da terreno vai a unclassified e facciamo una selezione di nuovo line above ma poi state scegliere lo strumento che preferisci prenderei qualcosa anche qua perché mi sembra che il terreno qui scosti un po' troppo rispetto all'andamento medio del terreno andiamo avanti questo è di nuovo il cumulo e se qua il terreno va bene perché probabilmente riprende l'andamento del terreno reale questi punti del terreno che ci sono qua sopra non sono rappresentativi del terreno per cui li tolgo da qui quindi sto partendo sto spostando i punti da ground a unclassified e continuiamo andare avanti vediamo un attimo nell'RGB che cosa vediamo qua abbiamo sempre questo cumulo di vegetazione che è stata riportata che io non voglio che sia niente di definitivo quindi vado nelle classi le faccio e chiedo di farle vedere tutte quante i punti del terreno qui li possiamo lasciare così qua diciamo che va bene così a un certo punto dovrei arrivare a vedere le auto credo credo che qua dovremmo più o meno esserci questa è un'auto ok questa è un'auto parcheggiata la vedo qui eccola qui è chiaro che non si vede molto bene quindi questa nuvola di punti ha chiaramente dei limiti quindi ci sono delle cose che vanno tenute in considerazione quando si valutano queste cose facciamo finta che questa sia completamente un'auto non credo che sia così però facciamo finta che sia così quindi vado da unclassified a reserve 13 dove ci abbiamo messo la nostra auto e faccio una selezione poligonale prendendo dentro questi punti devi stare attento alla rotazione tridimensionale quando fai le selezioni di questo tipo perché ti sposta la nuvola di punti ma non ti cambia la finestra di selezione che stai che attiva e che stai utilizzando facciamo così andiamo avanti tra l'altro qui c'è un'auto che non è stata presa quindi utilizziamo diciamo approfittiamo di di questo di questo editing per spostarci anche in questa zona e ora utilizzo una selezione poligonale sempre passando da unclassified tolgo il terreno a classificazione della riserva 13 quindi seleziono questi punti di quest'auto qua e anche questi e questi punti questa è un'altra auto parcheggiata ok ecco fatto vedi che si colorano del verde legato alle auto che è diverso dal verde legato alla vegetazione ora dovrei trovarmi in quella zona in cui parte dell'auto era stata classificata come edificio che in effetti è così e poi c'è da correggere anche questa classificazione qua questo non ho capito bene che cosa sia probabilmente qualcosa che veniva fuori dal terreno proviamo a vederlo in in RGB non è che si capisca molto è qualcosa sul marciapiede ma questi punti li voglio togliere dalla classificazione dell'edificio perché chiaramente non hanno niente a che vedere con l'edificio torniamo nella display by class allora quest'auto la voglio far diventare auto e quindi però voglio anche correggere questi punti che sono punti di edificio allora cosa gli dico il principio è sempre solito questi punti sono punti non classificati qui dentro ci sono punti dell'edificio building li voglio portare in reserve 13 quindi facendo una selezione di questo tipo bisogna stare attenti a non esagerare con la larghezza perché ci sono punti non classificati che potrebbero essere presi come auto in realtà lontani da essa ok e questi punti che sono punti di edificio li voglio portare da building soltanto questi punti a unclassified quindi non mi interessa dargli una classe particolare a questi punti li voglio soltanto selezionare affinché non c'entrino più niente con l'edificio questi punti diventano punti bianchi quindi non c'è niente non c'è più niente di edificio in questa zona a parte questa questa parte qui volendo potrai prendere questi punti qui beh lasciamo così potrei prendere questa fascia di punti bassi non classificati e dire al software di darmeli come punti di fabbricato però lasciamo stare ora ci sto già mettendo un po' troppo per gli standard dei video andiamo avanti c'è l'ultima parte le ultime parti da fare che sono fondamentalmente queste questa parte qui di edificio chiaramente va tolta dall'auto anche questa parte qua è un po' quello che succedeva prima per cui rimango con i settings di prima quindi da edificio a never classified quindi seleziono ora in questo caso sono sempre una vista planimetrica in una vista 3D che è una vista che in effetti aiuta molto alla possibilità di poterti spostare nella vista e capire che cosa stai guardando questa è un'auto quindi la sposto da unclassified quindi metto la spunta su unclassified da building la porto in reserved 13 seleziono questi punti e li faccio diventare reserved 13 questi punti qua sono alta vegetazione qua credo che ci sia qualcosa anche di bassa di bassa vegetazione forse qualcosa qui questa sicuramente è un'auto proviamo ad andare nella sezione successiva per vedere se si vede meglio attiviamo la vista RGB si direi che è un'auto un po' coperta da un po' di vegetazione che in realtà è il principio fotogrammetrico che non ha aiutato molto in questo caso con la presa soltanto nadirale allora faccio sì che tutti questi punti diventano auto non è un processo molto raffinato però però funziona per gli scopi di questo video da unclassified building possiamo toglierli perché non ho più punti edifici in questa zona to reserve 13 facciamo una selezione poligonale di nuovo prendiamo i punti che sono qua qui 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 e ce li facciamo andare bene in questa zona prenderei anche questi e anche questi qua piccolini e poi l'ultima cosa direi che possiamo classificare come auto questa auto qua di fatto parcheggiata quindi di nuovo da unclassified a reserve 13 processo di classificazione delle nuvole di punti non è un processo per niente semplice o meglio non è un processo per niente corto quindi tutta la parte legata alla classificazione del nuvole di punti è una cosa che richiede tempo e richiede tante risorse in termini di di tempo e quindi è per questo che la classificazione comunque è una parte che è brutto da dirsi però pesa all'interno del budget di un rilievo di questo tipo allora qui dentro io ho classificato come ho fatto un errore ho classificato come bassa vegetazione qualcosa che in realtà bassa vegetazione non è perché questa è parte di auto per cui cosa faccio metto la spunta su low vegetation e gli dico di prendere punti di unclassified e low vegetation e portarli all'interno della classe auto a questo punto questa sono punti legati alle auto andiamo in fondo credo che qua ci sia qualcosa che può essere riportato questa è sicuramente qui in sezione forse le cose le vedo molto meglio front view questi punti sono punti di bassa vegetazione adesso quindi da unclassified a low vegetation e qua posso cambiare con l'utilizzo del line above e quindi utilizzo lo strumento di selezione di tutto quello che c'è sopra a questo punto potrei ad esempio disabilitare la vista di quello che è building di quello che sono la reserve 13 di quella che è l'alta vegetazione lasciare soltanto il ground unclassified e low vegetation e provare a ripassare in questa direzione quindi nella direzione che ho appena percorso tornando indietro per trovare vedere per vedere se da ground da unclassified posso portare qualcosa a low vegetation per esempio io qua ci porterò qualcosa a low vegetation anche se probabilmente questo è out vabbè facciamo finta che vada bene così vado avanti questa è sicuramente low vegetation vedi come si dice scattered questa numero di punti è molto sparsa tipica della vegetazione bassa proseguiamo per vedere se c'è ancora qualcosa questa è low vegetation in realtà questa è auto lasciamo stare questa è auto e starà in un'altra parte potrei mettere come low vegetation questa ma non la vedo molto significativa questa è low vegetation quindi la portiamo a low vegetation qui siamo qui lasciamo così questo potrebbe essere un tronco ma lasciamolo invariato e anche questo potrebbe essere un tronco allora mettiamola come low vegetation va anzi mettiamola come high vegetation questa fa parte di un tronco o di un albero una pianta ad alta vegetazione questa la portiamo high vegetation e perché mi è sparita perché la high vegetation non compare tra le classiche io ho chiesto al software di farmi vedere e quindi me la fa sparire questo è anche un buon modo per toglierti di mezzo cose che non ti interessano se stai facendo un editing delle nuvole di punti e questo è il deposito di materiale di sfalci che non ci interessa mappare come niente questa è un unclassified fondamentalmente e basta direi che la possiamo chiudere qua perché sennò andiamo veramente lunghissimi quasi un'ora di video a questo punto allora chiedo al software di farmi vedere tutte le classi nella nuvola di punti ok esco dal profile editor salvando quindi devi salvare i risultati save results quindi lui ti salva i risultati posso chiudere il profile editor e lui adesso mi fa vedere questo mi dice guarda la tua nuvola di punti dopo il processo di classificazione che hai fatto è suddivisa in queste classi dove c'è sono i building c'è il terreno c'è un po' di media vegetazione c'è l'alta vegetazione poi c'è una classe reserve 13 che mi hai classificato dove hai attribuito determinati elementi che noi sappiamo essere state le auto a questo punto questa nuvola di punti è classificata secondo un criterio che è effettivamente rappresentativo di quello che c'è al terreno la informazione RGB non cambia l'informazione RGB è rimasta assolutamente la stessa avrei potuto anche utilizzare il dato RGB per classificare la nuvola di punti e quindi ritagliare direttamente le auto utilizzando l'informazione di colore però alla fine se vado a vedere la classificazione tutto sommato mi ritorna a quello che abbiamo fatto utilizzando le sezioni questo è quanto questa nuvola di punti la puoi utilizzare per per diverse cose o meglio questo processo lo puoi utilizzare per diverse cose all'interno dell'IDA360 una cosa che è interessante molto molto potente che si può fare è utilizzare una nuvola di punti classificata in questo modo per allenare degli algoritmi semiautomatici che spalmando questa classificazione e queste informazioni su tutta una nuvola molto più ampia riescono a classificare con molta più accuratezza tutti i punti della nuvola generale utilizzando le informazioni che sono in questa nuvola questa nuvola di punti sarà salvo in un file txt un file LAS tutti i punti si portano dietro un'informazione di classificazione per cui puoi utilizzare questa informazione all'interno di altri software per tenerti nella pancia tutto quello che hai fatto in questo processo come vedi questo processo è un processo lungo c'è poco da dire classificare una nuvola di punti per quanto gli algoritmi automatici siano potenti è un processo che richiede tempo richiede tempo ma l'IDA360 ti permette intanto tramite la classificazione automatica del terreno di risparmiare un sacco di tempo nel partire con una classificazione molto solida e poi attraverso il profile view di lavorare con una classificazione settoriale selezionando che cosa vuoi portare all'interno di una classe e viceversa cercando di farti essere il più efficace possibile in tutto il processo con lo scopo di raggiungere l'obiettivo che è quello di definire all'interno di una nuvola di punti che cosa è cosa quindi quali sono gli elementi di una certa classe rispetto agli elementi di un'altra classe quindi caratterizzare a livello numerico poi fondamentalmente a livello di informazione del dato tutto quello che è presente nel dato tridimensionale spero che questo video ti sia stato utile forse mi sono dilungato un po' forse mi sono un po' perso però è un processo che abbiamo fatto insieme e questo è quello che si fa fondamentalmente quando si classifica una nuova di punti se vuoi collegarti con 3dmetrica 3dmetrica.it se vuoi unirti al canale telegram di 3dmetrica telegram.me slash 3dmetrica se invece pensi che questi video al di là dei vari deliri di arrovellamenti e di impappinamenti siano utili 3dmetrica.it slash supporta puoi diventare un finanziatore di 3dmetrica supportare 3dmetrica e rendere ancora più sostenibile questo progetto è una scelta libera per cui state assolutamente decidere se farlo o no io continuerò a condividere questi contenuti grazie per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Coradeghini